ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo fantastico video di minecraft nella big vanilla dietro di me c'è marci che mi sta spiando ma oggi sono qui con una persona super spesale perchè saremo compagni di squadra non è così si 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 più forte No non colpirmi Non colpirmi Sulle mani Sulle mani dal mio team Allora Come avrete visto abbiamo Io ho mezzo cuore perché nella sfida di oggi Purtroppo anzi di tutta la settimana Cosa abbiamo? Mezzo cuore Mezzo cuore purtroppo Tu ne hai uno Perché sono terzo in classifica Ho mezzo cuore in piedi Sai cosa faccio? Allora comunque Io e Carly in classifica Siamo messi abbastanza bene Ma insomma Vabbè volevo Rispetto a Carpi Lui ha comprato i punti Allora dai spieghiamo le sfide Spieghiamo le sfide perché in pratica Dobbiamo giocare con mezzo cuore Ma possiamo fare delle sfide Per prendere più punti Sì giusto Allora una sfida Super brutta Ma super divertente E tosta E quella sopra le nostre teste Che cos'è quello lo vuoi dire tu? È un parkour super difficilissimo È un parkour Ogni volta che caschi Perdi dieci punti Ragazzi abbiamo appena registrato un video di Carly Andate subito a vederlo perché è super divertente Io purtroppo sono morto due volte E te quante volte sei morta? Tre? Eh tre volte Ok allora Lo rifassiamo? Vai Ti do altri due tentativi al massimo Ma dov'è il maestro? Maestro del parkour Maestro del parkour Volete per caso una pozione di fortuna? Si è messa a vendere caramelle Cos'è sta roba? No il totem Il totem che avevi in mano? Questo? Sì Anche quello Sono 5.000 euro Oh ma se lo uscidiamo Se lo prendiamo Oh Hai ragione No aspetta C'è la Keep Inventory Ascolta ma qualche consiglio per noi Per il parkour Io ne ho dati già abbastanza di consigli No no non è vero Allora l'unico consiglio prezioso che posso darvi E fatelo senza ansia Sembra il maestro Yolo Wow Ok va bene Figlioli seguitemi Grazie maestro Mi porto io verso il parkour Hai presente alle verifiche quando dicevano No ma non preoccuparti andrà tutto bene Sì infatti un consiglio inutilissimo Proprio inutile Non è servito a nulla L'ansia gioca dei brutti scherzi Allora quindi dobbiamo mettere giù Tutte le nostre cose perché altrimenti spariscono Quindi oltre al danno oppure la beffa Quindi via Ok Relax guys Se fatta anche notte Allora sei pronta? Vai Forza eh Stavolta sì Ragazzi Siamo super in alto Dov'è Kendal? Ci vedi? Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo È là È là sotto Ho paura mamma Allora Allora nel tuo video siamo stati super bravi Siamo cascati solo In quel maledetto pistone Vero Ma questa volta non andrà così Questa volta casco subito adesso Andrà così Oh a costo di perdere tutti i punti Lo finisco Vi ho insegnato tutto del parkour in questi anni Rendetemi orgoglioso Ma non ci ha mai insegnato la barra del lente Oh 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 Attento Ma vi ho insegnato ad affrontare ogni sfida Avete fatto parkour difficilissimi con me Cosa mangiare cento panini No ho visto qual è Perché il problema è che voi andate sempre in credito Non ci credo Non ci credo Non ci credo Devi stare zitto Devi stare zitto Mi sconcentri Devi stare Ti colpisco Oh ma si rubano la roba Nei miei parkour Ma si rubano la roba Carli qua Oh Picchiali picchiali Oh la nostra roba Ma lasciate stare Aspetta dai che torna Ma non è possibile Ma la faccia si è sceso a centocinque punti Sì sì Allora adesso silenzio Dicevo Il problema è che voi nei miei parkour Andate sempre in creativa E quindi quando ci sono le cose difficili Ma non è vero Non è vero Non è assolutamente vero Lo sanno tutti che citate Non è vero Assolutamente no Li facciamo tutti i leciti È vero No vabbè dai ragazzi Dai ma allora è la notte È la notte È la notte raga Dai È la notte Oh ma prima Ma prima se l'ho fatta subito Ma perché Ma basta Sei anni che facciamo video di parkour Bella faccia ti prego Mark ti butto su Non guarda Non guardatemi con sto sorriso Cosa ci fa Mark lì E Nico Ma che ne so Sa sa Prego Ma è diventato di coppia Di gruppo Prego Ma tu dove sei Sei lì Oh ma sto facendo una figurazza incredibile Ma secondo me perché è notte No te l'ho detto io perché Perché ora hai l'ansia Ho l'ansia Infatti ho l'ansia Cogliti l'ansia Via 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 Fai respiri Vai respiri profondi Aspetta Fai una cosa Aspetta che appaia la TNT E appena va via passi Forse è per quello infatti Quanto è fake con la TNT Non ti uccide Vai 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 Passa ora Ok ok Dai un bel respiro Un bel respiro Mamma mia che ansia Se ho perso già 50 punti Ok vuoi andare tu prima Vai Ti faccio vedere come si fa Cardi E che t'ho insegnato io qua Esatto Marche 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 Oh mio Dio Concentrata Stai concentrata Ok 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 Stai concentrata Aspetta allora qua in pratica bisogna aspettare Che questo vada avanti Esatto E poi qua Esatto Esatto Bravissimo Ok Non farmi ridere dai Occhio Ok 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 Allora qui quindi è semplice Si clicca il pulsante Non parto ancora Non ero pronta Eccoli Si clicca il pulsante E vengono fuori Non partire Non partire E vengono fuori il vetro Solo che è notte Certo che È proprio hard Te lo attivo io il pulsante Allora aspetta Ti faccio mettere il giorno Ti faccio mettere il giorno Faccio un po' di respiro Spesso Ho me la ditta A forza di shiftarmi Allora contate fino a 10 E poi andate Io vorrei il giorno Ok Aspetta vai Ci sono Vai Ci sei? Dammi il via 3 2 1 Vai Mi son fermato Mi son fermato Ok Let's go Ho ancora più ansia di prima Vai Carly Tranquillo 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 Ti mostra che sei la regina 3 Via Mi sono fermata Brava brava Top top Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Allora qua All'inizio non si capiva dove bisognava andare E Kendall poi Diciamolo Dillo Non ci ha aiutato Non ci ha voluto aiutare No Quindi è cattivi È una persona orribile Io sono una persona onesta E Carly guardate cosa ha scoperto Eccolo L'occhi invisibili Quindi quella casa che guardate là Che sto puntando La distruggeremo in un prossimo video Raga guardatevi dietro Guardatevi dietro No vabbè Sono Mark e Nico Voglio vederli Voglio vedere Guarda che stanno cercando di capire Come va fatto Ciao raga Intanto vado avanti La sfida è bellissima Adios Oh mamma Guarda lì sembrano due polli No aspetta sei tu il pollo Oh intanto io sono qua Chissà se ci arrivano Dai voglio vedermi Cliccate il pulsante Ecco Forse Nico l'ha scoperto Vediamo Non cliccare Nico Ecco sì Mi sto dicendo Guarda si sono aperti Dei passaggi Dai Mark dai In diretta Guardiamolo morire Vai Mark Vai Mark Vai Mark Stiamo osservando Ora glielo scrivo Forse salta Ok Forse salta Forza Forza Intanto vado avanti Allora qui Ok si termina qua Ok Adesso devi saltare Salta no Voglio vedere loro Ci sono le barriere No 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 Non ve lo diremo Scriviamo Che cattivo Noi siamo morti tre volte Anzi tu ormai E cinque Allora io salto qua Perché c'è il blocco Invisibile Ok 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 Sì Ok Io vorrei vedere loro In diretta da qua Guarda guarda che Non voglio Mark non ha più cibo Non ha più cibo Non può saltare Mi è finito il cibo Perché si cancellano gli oggetti Nell'inventario Ok Oh Scusami Scusami Guardate ora lo fanno Ora lo fanno Gli avrà dato il cibo Siamo Dai 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 Saltate saltate Vediamo Ecco Uno Due Due Vabbè dai Mark è caduto al primo salto Vediamo Nico Vediamo Occhia da ripugni Nico sbaglio Occhia da ripugni Scusa Scusa Ho paura Lo vedo confuso Uno Due Tre Boom La fatta Vado eh Occhio Rimani immobile Aspetta mi serve un po' più di spazio Guarda Non ho capito dove bisogna andare Non è vero Rischiano la vita ragazzi Vado eh io eh Vai Ok Boom Fatto Aspetta che sono curiosa No l'ho scoperto L'ho scoperto Ok Ok Anch'io ok Ok Let's go Ok Allora raga qua Due volte sono morto io E anche te Tre sfidate Ah no due Due Fondi Mamma mia Se avete le mani sudate asciugate Infatti fammele asciugare Mamma mia Andiamo a prendere Mamma mia Un fazzolettino È facile Non è facile Bugiardo C'è qua comunque Qua comunque anche se non avevi mezzo cuore Potevano anche lasciarseli tutti Allora devo contare Ok Ok Ce la puoi fare Appena esce vai No Lo stavi per fare È difficilissimo È troppo difficile Lo stavi per fare È difficilissimo Secondo Se tessi saltato mezzo secondo prima ce la facevi Marci Guarda Marci come guarda Gli fa male il collo fra poco Vai Carly Vai Carly No 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 Aspetta aspetta Ho paura Ho paura Ho paura mamma Forza 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 Guarda che ti guardano tutti Ti fa per te Oh mamma Dai dai Concentrata Siamo con te Con il tuo spirito Ok aspetta aspetta Concentrata Il tuo compagno di squadra ti fa per te Vengo io alla scrivania e te lo faccio io Ti prego Ti prego Ti pago Ti pago Vieni a farmelo Vieni a farlo tu Allora Grande 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Grande Vai bella faccia Raggiungila Oh mio Dio Io mi sa che Io mi sa che passo basta No ragazzi Se voglio qua è la fine Vai Carly Dai che dopo andiamo a fare una nuova sfida Ti prego Sì andiamo adesso Ma tu stai registrando Ma sei un mercante qui Cosa Ma sei un mercante Non lo attaccare che se no i lama ti ammazzano Con mezzo cuore Oh guarda dov'è Carly Carly Guarda Marsi Gli fa male il collo Oh se riesci a completare la sfida Gliela devi dare tu a Steph Perché stai registrando No se ti prego Registra tutto Mi dovete pagare No no registra Ti prego Stiamo registrando È tutto in diretta No però per tutte e due Vale qui Sì scusa Siamo un team E li devi dare a tutte e due Non funziona così Vabbè adesso non parlo Perché ancora Dai eh Allora Carly Quella parte No No Non cascare Vabbè Ci abbiamo provato Io mi metto a piangere Secondo me ragazzi In tutta onestà Vi conviene provare delle altre sfide Basta col parkour Cioè si prendi pure in giro Eh mi dispiace Ciao Ciao Vabbè Siamo stati bravi comunque Vero Non parlo più Ragazzi C'è Mark C'è Mark Guardiamo Mark Guardiamo Mark C'avete un binocolo da prestarmi Per chi non ha l'Optify No Ma dov'è Nico Attenzione No No Vabbè Ragazzi Speriamo che il video vi sia piaciuto Ci sono tantissime altre missioni da fare Che faremo sicuramente Nei prossimi episodi Come killare 10 scheletri Killare 10 creeper Uccidere 5 blaze Quindi Ne vedrete delle belle Vero Vero Ti fa male il collo Non stare così Ciao Ciao Ciao